Sì, in realtà se me l'avessero detto alla partenza non ci avrei mai creduto, quindi sono estremamente felice, però vabbè ovviamente quando uno taglia il traguardo secondo in una gara del genere c'è sempre un po' di delusione, è normale che sia così, però dai sono passati dieci minuti e ormai la delusione sta andando via e devo dire che sono molto soddisfatta, devo ringraziare le mie compagne e come ho detto prima, se me l'avessero detto alla partenza, insomma non ci avrei creduto. Ma io ho sempre detto che è una corsa che non mi piace tanto, però devo dire che oggi mi sentivo molto bene, quindi sono contenta e ci riproveremo nei prossimi anni. Sì, già sul tratto di Pave precedente avevo fatto tanta fatica e mi sono mancate un pochino le gambe, però sinceramente rimanere con quelle ragazze, con quelle campionesse non me lo sarei immaginato, quindi sono davvero soddisfatta.